Cittadinanza attiva, il Club Lions Casa Irta di Capua adotta una piazza dell'antica cittadina di terra di lavoro. Cerimonia ufficiale di consegna per il presidente del Club Carlo Russo, un laboratorio di idee e proposte. È una piazza di riferimento della città per tutte le attività culturali e civili, simile alla Gorade Greca. Il punto di ritrovo, tant'è che i Lions ogni anno faranno in questa piazza un evento per raccogliere la cittadinanza e per proporre nuove idee alle istituzioni, istituzioni quali il comune, la provincia, la regione. Non dimentichiamo che la regione è la prima, la campagna che ha adottato una legge che permette all'associazione di essere proattive verso le istituzioni per poter migliorare quello che ovviamente si può migliorare, ma semplicemente per far sentire il cittadino sempre più attore, non più suddito di una cittadinanza. Cosa abbiamo fatto? La piazza l'abbiamo ristrutturata, oggi ci sarà la cerimonia nel quale togliamo il drappo e verrà quindi inaugurata questa targa e abbiamo raccolto i cittadini di Capua e del Club Capua Casa Irta intorno a questa piazza. Per il sindaco di Capua, Carmine Antropoli, un esempio di sinergia tra pubblico e privato. Noi ci proponiamo innanzitutto di avere un aiuto concreto da Lions, in che senso però? In temi di immagine, Capua è una città antichissima, ha la storia trimillenaria, è una delle città più antiche al mondo e i Lions sono un'associazione internazionale, quindi noi vogliamo collaborare con l'associazione internazionale in modo tale che si possa promulgare le gesta e la storia della nostra città in tutto il mondo.